Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Papa Bergoglio al Tg1 parla della guerra in Ucraina, di quella a Gaza e dei flussi migratori. Dalla guerra in Medio Oriente al conflitto in Ucraina, con l'appello a deporre le armi. Ma anche il bilancio del Sinodo, il ruolo delle donne nella Chiesa, la necessità di rinnovamento. Temi affrontati da Papa Francesco nell'intervista esclusiva con il direttore del Tg1 Gianmarco Chiocci, andata in onda ieri sera su Rai 1. Ogni guerra è una sconfitta, afferma il pontefice, non si risolve nulla con la guerra. Niente. Tutto si guadagna con la pace, con il dialogo. Nella guerra uno schiaffo provoca l'altro. Uno forte e l'altro più forte ancora e così si va avanti. La guerra è una sconfitta. Io l'ho sentita come una sconfitta in più. Francesco ricorda il momento più duro del pontificato. All'inizio, quando scoppiò con tanta forza la guerra in Siria e ho fatto in piazza un atto di preghiera. Dove pregavano cristiani e anche musulmani che hanno portato il tappeto per pregare. Questo momento molto duro. Per me è una cosa brutta. Ma poi? Questo non è bello dirlo. Uno si abitua. Purtroppo uno si abitua. Non dobbiamo abituarci.